Rivolgo ora il mio affettuoso pensiero e il mio benedicente saluto alla Chiesa in Irlanda, dove a Dublino, alla presenza del Cardinale Marco Elet, mio legato, si svolge il cinquantesimo congresso eucaristico internazionale sul tema «L'eucaristia, comunione con Cristo e tra di noi». Numerosi vescovi, sacerdoti, persone consacrate e vedeli laici, provenienti dai diversi continenti, prendono parte a questo importante evento ecclesiale. È una preziosa occasione per riaffermare la centralità dell'eucaristia nella vita della Chiesa. Sesso realmente presente nel sacramento dell'Atare, con il supremo sacrificio di amore della croce, si dona a noi, si fa nostro cibo per assimilarci a Lui, per farci entrare in comunione con Lui. Attraverso questa comunione siamo uniti anche tra di noi, diventiamo una cosa sola in Lui, membra gli uni degli altri. Vorrei invitarvi ad unirvi spiritualmente ai cristiani di Irlanda e del mondo, pregando per i lavori del congresso, perché l'eucaristia sia sempre il cuore pulsante e della vita di tutta la Chiesa. Grazie. 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 Grazie.